Da questa mattina all'ingresso della questura di Pescara in via Pesaro è posizionato un defibrillatore che l'associazione Life e il sindacato FSP della Polizia di Stato hanno donato alla cittadinanza. Life e FSP Polizia di Stato uniti per donare questo apparecchio salvavita alla comunità di Pescara. Un'idea che nasce qualche tempo fa e porterà a questa comunità un importante dispositivo. Sarà integrato da una serie di corsi che faremo sia all'interno della questura, corsi di formazione per l'utilizzo del defibrillatore nonché a colori quali lavorano nei pressi di questa struttura e di questo dispositivo. Quindi per noi è motivo d'orgoglio e il terzo dispositivo salvavita che andiamo a inaugurare sulla provincia di Pescara il primo fatto qualche tempo fa a Penne, ne abbiamo fatto un secondo a Manopello e questo è il terzo su Pescara. La cultura della cardioprotezione e della diffusione del DAE è fondamentale. Basti pensare che ogni anno circa 60.000 persone muoiono per arresto cardiaco. Intervenire tempestivamente, nei primi proprio 5 minuti, 300 secondi, sapere esattamente le manovre giuste da fare e utilizzando il defibrillatore cambia radicalmente il decorso della situazione. Il presidio medicale stazionerà in una zona dove per la presenza di numerosi uffici all'interno della questura giornalmente stazionano centinaia di persone. Fa parte di un progetto che stiamo portando avanti come sindacato che coinvolge in primis gli operatori della Polizia di Stato per avere un'istruzione, una preparazione anche in questi casi di emergenza. abbiamo ritenuto di donare questo apparecchio proprio in via Pesaro che è la sede della nostra questura. Abbiamo visto che sia la mattina che il pomeriggio ci sono centinaia di persone che transitano da queste parti. Nei luoghi attivi non ci sono strumenti del genere quindi è sembrato opportuno coinvolgere il sindacato di Vescara per donare questa attrezzatura.